Ora è ufficiale, i lavori di costruzione del sottopasso ferroviario di via Gaeta termineranno a settembre. La notizia è stata accolta favorevolmente dai tanti cittadini cremaschi che, da tempo, lamentavano i disagi causati dalle lunghe code che si formano davanti al passaggio a livello di Viale Santa Maria. Il cantiere era stato aperto nel 2020 e, nel corso degli anni, aveva subito diverse battute d'arresto, suscitando non poche polemiche. Si è espresso sul tema il sindaco di Crema, Fabio Bergamaschi, che ha sottolineato l'importanza dell'opera. Ci sono stati alcuni ritardi dovuti alla paltatrice di rete ferroviaria italiana, non a caso, quando sono state modificate le maestranze, le imprese, c'è stata un'accelerazione molto significativa, quindi sono purtroppo delle dinamiche invincibili. La composizione finanziaria dell'intervento è articolata in un contributo del Comune di Crema, di RFI e anche una quota parte minore di Regione Lombardia. Questo ovviamente per coprire un quadro economico particolarmente significativo che supera di poco 10 milioni di euro, ma anche per attestare l'importanza e la strategicità di questo intervento. È un'opera fondamentale, Crema la attende da 50 anni più o meno, è davvero il cantiere pubblico più significativo della città per il suo uso, per la ricucitura urbana che comporta il collegamento tra tutto il nord della città col centro cittadino, è davvero l'attesa è stata troppo lunga. Abbiamo messo a terra un'operazione importante che non riguarda soltanto il sottopasso ma la rigenerazione di tutta l'area della stazione ferroviaria che oggi si presenta assolutamente dignitosa e moderna, cosa che non era fino a pochi mesi fa e quindi l'avanzamento quotidiano di questo cantiere è una bellissima soddisfazione per tutti i cittadini e la conferma del cronoprogramma con l'apertura tra settembre e ottobre allo stesso modo. Vedo l'ora, il sottopasso sarà un punto di svincolo, sì, finalmente. Io spero che sia una buona notizia, spero solo quello perché il casino si vede, anche adesso che siamo a luglio che non ci sono le scuole, c'è sempre un casino qua, è rotto, non passano, si è ritardi su ritardi, quello sì, speriamo che si risolva il problema in questo modo qua, speriamo.